Buonasera signor Beniamino, i musicisti per primi sono stati stravolti e coinvolti in questo programma che è una commissione di video e di musica, quindi un coinvolgimento sensoriale, quanto mai attuato? Come l'hai pianificata? La tua passione e soprattutto la tua cultura va così talmente oltre da mettere a punto e allineare ai tempi, il terzo secolo e il secolo delle immagini? Non esagererei, il problema è che le bagattelle che abbiamo proposto in video hanno la stessa leggerezza, la stessa cifra musicale soprattutto del quartetto opera 130, quindi è stato un esperimento di voler abbinare i pezzi per pianoforte opera 126 col quartetto opera 130 e parte del quartetto 132. Come avete potuto vedere poi abbiamo abbinato una piccola scena da un film su Beethoven che appunto fa vedere Beethoven come detta le prime note della canzone di ringraziamento che è questo colossale movimento che dura 16-17. Ma infatti è una cosa che ci ha particolarmente coinvolto ed emozionale, un piccolo viaggio emozionale tra musica e immagini. Sì effettivamente è così, non è la prima volta che pensiamo a questa operazione, infatti anche il primo concerto fatto a Montechiaro che su questo concetto dell'essere un po' filosofico era tra la musica sempre di Beethoven e le pagine di Thomas Mann nel Dottor Fausto che scrive cose bellissime a proposito dell'Arietta. Beniamino Cuomo, presidente dell'associazione, ha i prossimi appuntamenti? Appuntamenti saranno sempre di meno perché costano e noi non abbiamo finanziamento e ci autofinanziamo anche in modo strano. Ha quelle fette di pane a Montechiaro, al Chiar di Luna o al Tramonto? Vabbè posso già dire con certezza che faremo per la seconda volta il concerto con il Fai Giugiaro del 2 giugno che spero diventi un'occasione fissa anche per altre date perché la Baia di Erante deve diventare il volano di una promozione turistica di livello internazionale così come sulle Dolomiti organizzano i suoni delle Dolomiti. Non è possibile organizzare tanti concerti ovviamente per il caldo d'estate però in bassa stagione, giugno, settembre, ottobre si potrebbero fare belle cose. Però a maggio contiamo, a metà maggio, di fare un concerto con autori di origine ebrei fuggiti dalla Germania molto piccoli, minori, che abbiamo in cantiere da molti mesi che per difficoltà non è stato fatto. Però contiamo a metà maggio di offrire questo concerto al centro anziani come al solito e abbiamo anche una chicca perché ad esempio Bruno Walter che è stato uno dei più grandi direttori dell'orchestra del XX secolo ha scritto diversi leader e ne proporremo alcuni insieme ad altri personaggi. Ma sono incuriosito e accalappiato che nelle tue mani questa cava di pietre giù a Eranto sarà trasformato in un gigantesco teatro dall'acustica speciale particolare, un luogo eccezionale, una cornice fantastica. Hai perfettamente ragione luce, anzi noi al meridione non sappiamo vendere le cose bellissime che abbiamo e la seconda volta l'anno scorso c'erano 100 persone, persone a più persone, quindi non erano poche e tra l'altro l'anno scorso fu una data particolare perché erano i 10, il compleanno del decimo anno dell'acquisizione, no, del FAI, della Baia di Eranto, ma erano anche i 300 anni della nascita di Russo a quale abbiamo dedicato un concerto eccezionale perché abbiamo fatto eseguire delle canzoni, degli chance scritti e musicati da Russo, alcuni dei quali per esempio su sonetti di Petrach, quindi di estremo interesse e di estrema rarità. La meraviglia, il coinvolgere dei sensi, l'apporto dei video, come lo vedete? Che cosa ne pensate? Lo avete concepito sulla vostra pianificazione di questo concerto o siete stati provocati da un certo Beniamino Cuomo? Siamo stati provocati, ovviamente. Beniamino Cuomo è un uomo di grande cultura e di grande sensibilità ed è una politica che noi condividiamo pienamente. Per noi il concerto sensoriale, inteso come partecipazione dei sensi non solo uditivi ma anche visivi, con luce soffusa, ovviamente, creano attenzione. La cosa fantastica è che noi in quel video abbiamo potuto vedere il compositore, quindi non solo un video, ma un video particolarmente illuminante per l'esecuzione stessa. Magari ce ne stessero per tutti i brani musicali. Sicuramente sarà uno spunto, un'idea. Quello che per noi è stato bellissimo stasera è quello di appunto suonare il quartetto di Beethoven in opera 130 e 132 perché suono capolavori assoluti. Ovviamente maturità quartettistica ci vuole, molta maturità quartettistica e per noi è stata una bellissima sfida che Beniamino ci ha offerto. Quindi siamo contentissimi di aver potuto sfruttare questa occasione per affrontare questo repertorio fantastico. Tra l'altro nelle conoscenze e questi due quartetti non sono eseguiti frequentemente, le troviamo solo particolarmente in alcune nicchie. Basta studiarli un pochino per capire il perché. È un linguaggio estremamente difficile. Quando lui ci ha provocato con questa proposta di eseguire il 130 e appunto dalla canzona di ringraziamento e gli ultimi due movimenti del 132, diciamo che la decisione è stata proprio difficilissima da prendere perché comunque la nostra formazione resta una formazione giovane come esperienza quartettistica e questo è un linguaggio che di solito si affronta dopo anni e anni di studio e di lavoro assieme. Però poi la cosa che ci ha stimolato è... Infatti il concerto della volta scorsa, raffrontato anche se in termini musicali ma in termini artistici a quello di questa sera, io non parlerei degli stessi maestri, professori e esecutori. Era completamente diverso ma la cosa che ci ha fatto accettare è stata che per come è difficile questa musica noi pensiamo che nemmeno tra dieci anni ci saremmo sentiti pronti per affrontare un repertorio del genere. Infatti mi stavo chiedendo quanto tempo ha richiesto per una buona preparazione quella quale avete raggiunto? C'è quasi un anno di lavoro. Carmine Caniani Giorgiana Strazzullo Io sono sempre Sergio Martinoli Adriano Merucci Il quartetto Mitia è il nostro sogno a 16 corde è nato da un sogno appunto, quello di poter unire quattro collaborazioni provenienti dal sud un sud che non produce solo appunto negatività ma qualità quindi il nostro sogno a 16 corde perché se noi mettiamo i nostri strumenti vicino a uno vicino all'altro sommando le corde appunto arriviamo a 16 e l'obiettivo è quello di suonare un unico grande strumento tutti insieme con il cuore.